Le porte del Tribunale di Arezzo si riaprono per la vicenda della vecchia Banca Etruria. È teso infatti per mercoledì 30 novembre la sentenza per il primo filone di inchiesta, quello che vede imputati di ostacolo alla vigilanza l'ex presidente di Banca Etruria, Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il direttore centrale David Canestri. A pronunciarla sarà il GIP del Tribunale di Arezzo, Anna Maria Loprete. Per gli imputati il procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi e il PM Giulia Maggiore avevano chiesto due anni e otto mesi per Fornasari e Bronchi e due anni per Canestri, mentre Banca Italia, unica parte civile ammessa, aveva presentato istanza di risarcimento danni per 320 mila euro. Gli avvocati difensori chiedono invece l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Il filone di inchiesta risale alla fine del 2013, quando gli ispettori di Banca d'Italia, in una relazione, avevano evidenziato possibili criticità di rilevanza penale nel bilancio 2012 dell'Istituto Bancario Aretino. Tra le operazioni che avrebbero concorso a provocarne il dissesto e a mascherare delle reali condizioni economiche della banca, sulle quali si è basato l'inchiesta, la vicenda relativa all'accessione di immobili, in particolare la società Palazzo della Fonte, il cui consorzio acquirente sarebbe stato a sua volta parzialmente finanziato dalla stessa Banca Etruria. I difensori degli imputati avevano ribadito come i loro assistiti avessero comunicato a Banca Italia tutti gli elementi fondamentali, sottolineando che, se ci fosse stata qualche omissione, non sarebbe stata tale da ostacolare la corretta conoscenza dello spin-off immobiliare, che comunque ha avuto il via libera dalla Consom. Sui crediti deteriorati, altra questione su cui ha puntato l'accusa, gli avvocati hanno sottolineato che i loro assistiti hanno rispettato i criteri internazionali di contabilità e di accantonamento e che non ci sia stata alcuna volontà di trattenere i deteriorati a incagli. Su questa base il giudice si pronuncerà domani mattina dopo le controrepliche.